Ciao! 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 No, la pompilona, scusa. Eh, vabbè, scusa, la pompilona sta per pomp... con quello. Sì, sì. No, scusa, per cosa? Lo faccio a voce. Lo sto a fare beatbox. A beatbox. La beatbox. Apprezziamo il beatbox. Immagina, puoi. Apprezziamo la buona volontà. Sempre. Oh, eh. No, eh, tutti qua stanno, no, 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 no. Domenica... Guarda leccone. Domenica. C'è il Domenico che lagga... Eh, eh. Domenica. Ma, Fabio, che fai? Scusa, stai giocando? Eh, guardi un legno. la scuola un pochettino se ne veniamo a 2 milioni grazie per l'argomento ha detto prima di iniziare ma si fa se nemmeno l'ultimo occhio malocchio carmine finocchio c'è ma un colore sempre forever aia mamma arma di merda che non prenda l'estate e ho fatto il mio dovere adesso la mia bomba pensi aiuto di te onde bamba onde bamba salsicce ma dai iiii stiamo 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 no non puoi farlo c'è il mio corpo non puoi farlo non puoi farlo non puoi farlo c'è la mina questo mi so qui si 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 ora andiamo alla 11 oh che gusti di color nooo oh invece invece toghi chiede la fanculo no va fanculo la scala vai dai è scania di crescita i color nooo dai the color basta andare a arrestare il medico sicuro alla 1 alla 1 alla 1 alla 1 parco dio dietro andrea dietro 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 ciao ciao cacchio non la siamo bello rosa Andrea manca nooo schiena toliosi che bravi che bravi che bravi lo prendo io no pappo grazie per il poppaculo eh a chi devo seguire di due fatemi capire ma è un culo mannaggia la puttana m'è buttato giù ma quando mai ma si è da un'altra parte ma che cosa stai dicendo? ti ho fatto salire io ti ho fatto salire io? vabbè mi hai buttato giù ma non è possibile ero qua dietro ma che ero qua dietro? c'è il video ti sei steso tranquillo ti sei steso io sopra le gambe ti sei steso dopo te ero dietro scorsi ma tu sei stato steso io mi so facciato t'ho visto e sto sparato tu sei stato fermo io ero steso qua dietro tizia ci sarà registrazione su e ti mando la foto ma che cazzo è una foto che mi rimane la registrazione? tizia sono due scelte suuuuucaa ciao amici di Youtubers ciao test the feeling ciao amici ciao test di cazzo ciao ciao oggi sono picolare ciao amici amici aspettate c'è una bomba stiamoci qua uh ah mannaggia gesù cristo non è la stessa più grazie signor signor siccome pari dai semi-negro no attenzione attenzione Ehi! Ehi Sebi! Ehi Sebi! Ehi Sebi! Ehi Cazzati! Sei Musulmane! Ehi Sebi! Ehi Sebi! Ehi Sebi! Domani divendo cristiano vado in pizzeria Ah ecco La pizza è il segno di Cristo Io non lo conosco Mi spezzo! Devi prendere la fantastica pizza col po' Spaccio l'ostia Italian Gisus Vado in Tunisia spaccio l'ostia Ah eh beh Erika Titti c'è un grande uzi Grande! Un grande uzi! E' un grande tizia Ehm uca CULAMI CULAMI No 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 tizia torna a patama 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 Oh dai cazzo io mi devo cominciare a una cosa sei gay vediamo lo scoop stiamo online adesso stai registrando per youtube io vi devo confessare una cosa ci ho dipensato non ve lo dico più milfona pompinona ggg ggggg è venuto da questa è la domanda ggg hg ha preso tre volte il punto di vista comunque milfona ha detto che ti ama esatto perchè? e che ne so l'amore è così non è che puoi chiedere perchè si chiede si chiede bravo chiedi nella vita bisogna essere sempre curiosi ok? ahahah 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 ah 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 Grazie a tutti.